Qui ci troviamo vicino alla sommità del Monte Boglia, sopra il lago di Lugano, con una vista mozzafiato sul lago. Siamo in prossimità del confine fra Svizzera e Italia. Questo è il versante Svizzera. Qui andiamo verso la sommità del monte, dove si può vedere la croce. E questo crinale è lo spartiacque che segna il confine tra l'Italia e la Svizzera. Questo è il cipo confinario, lato svizzero e lato italiano. E questo sopra, il cipo, è l'angolo che segna il confine tra Italia e Svizzera in questo punto. Al di qua siamo in Italia e al di là siamo in Svizzera. E Angelo in questo momento si trova, vediamo, aspetta, l'angolo va di là, perciò Angelo è in Italia in questo momento. Aspetta un attimo, io mi sposto di qua, mi sposto di qua dall'angolo, ecco, io sono dentro la Svizzera, mentre Angelo è in Italia. Angelo, che tempo fai in Italia? Un po' brutto. Un po' nuvolo, eh? Sì. Mi sa che anche qua in Svizzera c'è lo stesso tempo. Va bene. Angelino, continuiamo verso la vetta. Questa è la parte nord del lago di Lugano, Porlezza, versante italiano del lago. Ed ecco, Angelino, che si incammina verso la vetta. Ciao, Angelino! Ciao!